Applausi, applausi per tutti, per il maestro Palleschi che ha diretto l'orchestra del Teatro Vittorio Emanuele, che rivedere all'opera, con i tempi che corrono e ogni volta una grande emozione, per il grandissimo cast salito sul palco, per il coro, per i ballerini, per chi ha allestito una magnifica scenografia, per il pubblico, gli aspetti tecnici, le sottigliezze li tralasciamo, li lasciamo a chi ha competenza e diplomi, ma la traviata, andata in scena venerdì e ieri, ha convinto i messinesi che l'hanno attesa per cinque mesi. L'opera, prodotta dal Vittorio, era stata rinviata alla fine della scorsa stagione, erano validi gli abbonamenti e i biglietti acquistati per le date del 4, 6 e 8 maggio scorsi. Il risultato? Vittorio Emanuele pieno, in ogni ordine di posto, sino alloggione, e anche questo è stato uno spettacolo. Sul palco, un cast di primo ordine a dirigere l'orchestra del maestro Carlo Palleschi, la regia affidata a Carlo Antonio De Lucia. Tra i cantanti spiccono i nomi del soprano Elvira Faticova, Violetta, del baritono Giuseppe Altomare, Giorgio Germont e del tenore Roberto Iuliano, Alfredo Germont. Le scene e i costumi sono stati realizzati da Taormina Opera Stars, ottima la prova del coro lirico Francesco Cilea, diretto da Bruno Tirotta.